Sulla delibera approvata ieri dall'Aggiunta regionale, che individua le 10 aree di crisi industriale non complessa a valere sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto, interviene con una nota Daniela Forma, consigliera regionale del PD. L'Esecutivo ha infatti individuato i sistemi locali del lavoro che rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge, tra questi le aree industriali di Fonni e Macomere e Nuoro. La delibera ruota attorno ai benefici della legge 181 del 1989 e permetterà alla Regione e al Ministero dello Sviluppo Economico di attivare azioni tese ad attrarre investimenti esterni e agevolare investimenti di imprese sarde nel comparto manifatturiero. Questo significa, sottolinea l'esponente del PD, che una volta ultimato l'iter di inserimento nell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa, potranno rientrare nei benefici della legge 181 gli investimenti che verranno effettuati nei territori che rientrano nel sistema locale del lavoro di Nuoro, Macomere e Fonni. Questo provvedimento, sottolinea Daniela Forma, va ad affiancare il riconoscimento delle aree di crisi complessa in cui i dati parametri ministeriali molto restrittivi sono risultati candidabili a livello regionale solamente il polo industriale di Portovesme e l'area di Porto Torres. L'obiettivo che la Regione si pone con questa delibera, conclude l'esponente della maggioranza, è quello di favorire e attrarre investimenti. Col sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico si mette a disposizione del mondo imprenditoriale uno strumento che consente di avere ricadute positive su quei territori che sono stati interessati dalla crisi del settore manifatturiero.